Hai scelto di montare gomme 4 stagioni ma non vuoi spendere una follia? Allora scopri i pneumatici all season dall'elevato rapporto qualità-prezzo che abbiamo selezionato per te. Oggi parliamo di gomme 4 stagioni, in quanto sono un prodotto molto richiesto dal mercato e vengono acquistate da chi desidera una soluzione di compromesso e non percorre molti chilometri all'anno. Se vuoi approfondire le caratteristiche di questa tipologia di pneumatici, non perderti i nostri due video dedicati. Nel primo, che puoi guardare cliccando sul link qui in alto a destra, analizziamo dal punto di vista tecnico e prestazionale le differenze tra scegliere il doppio treno, estivo ed invernale, o viaggiare con delle gomme all season tutto l'anno. Nel secondo, grazie a uno studio economico approfondito, potrai scoprire se risparmierai davvero scegliendo i pneumatici 4 stagioni, anche in base ai chilometri che percorri all'anno. In particolare, abbiamo scelto di esaminare una selezione di prodotti dal comprovato valore tecnico, ma competitivi nel prezzo d'acquisto. Prima di scoprirli, se apprezzi contenuti come questo, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella. A te non costa nulla, ma per noi fa una grande differenza. I pneumatici 4 stagioni, dall'elevato rapporto qualità-prezzo su cui ci concentriamo oggi, si rivolgono ad auto piccole e compatte appartenenti ai segmenti A, B e C, ma possono equipaggiare anche alcuni modelli di SUV di media-piccola dimensione, oggi sempre più diffusi. I criteri che abbiamo preso in considerazione per valutarli sono i risultati ottenuti nei test delle più importanti riviste di settori internazionali, i valori dell'etichetta europea delle principali misure, ed infine il posizionamento dei prezzi. Se vuoi scoprirli, dai un'occhiata al nostro store online. I migliori prodotti del segmento qualità-prezzo che abbiamo selezionato e che ti consigliamo sono l'Anku Kinergy 4S2, un prodotto che ha raccolto un ottimo successo sul mercato e che promette un valido compromesso tra tenuta di strada e prestazioni di drenaggio dell'acqua, con un occhio all'aderenza sui fondi nevati. Il Kleber Quadraxer 3, caratterizzato da un battistrada a forma di V e dalla tecnologia autobloccante, che garantisce ottime prestazioni sull'asciutto, ma anche una valida evacuazione dell'acqua e un ottimo livello di comfort, grazie ai pianchi morbidi. Il Kumo Solus H32, progettato appositamente per il clima e le condizioni stradali dell'Europa, che promette ottime prestazioni di guida e stabilità, non solo su superfici bagnate e asciutte, ma anche su strade innevate. Il Firestone Multiseason 2, sviluppato e prodotto in Europa e caratterizzato da un battistrada è un'area di contatto ottimizzati, per consentire una più rapida espulsione dell'acqua sul bagnato e un livello bilanciato di rigidità sull'asciutto. Il Nexen & Blue for Season 2, del noto produttore coreano, che vanta una vita utile del battistrada, aumentata di circa il 30% rispetto al predecessore, e che possiede una nuova mescola, dalla flessibilità migliorata alle basse temperature, e dalla rigidità migliorata a quelle alte. Il Dallow Sport All Season, che, grazie alla robusta cintura e alle telle di sommità, supporta prestazioni sportive in curva e, grazie alle scanalature longitudinali e agli spigoli radiali, offre un maggiore contatto con la strada, accelerando l'evacuazione dell'acqua dall'area di contatto con la superficie stradale. Il Vredest Equatrack, che utilizza una mescola di nuova generazione con polimeri multifunzionali ed è caratterizzato da blocchi spalla che garantiscono miglior handling di guida sia sull'asciutto che sul bagnato, con una riduzione dell'acqua planning e un'attenzione al risparmio di carburante. Ma quali di questi pneumatici sono i vincitori? Alcuni di questi pneumatici hanno ottenuto le migliori valutazioni nei test delle maggiori testate di settore e ci sono distinti per gli ottimi valori dell'etichetta europea. Eccoli! Sul podio salgono l'Anco Kinergy 4S2, il Kleber Quadraxer 3 e il Kumo Solus HA32. Ecco come ci sono distinti nei test questi tre pneumatici. Il Kinergy 4S2 ha collezionato tre terzi posti, un quinto e un ottavo posto. Il Quadraxer 3 conquista due quarti e due settimi posti. Il Solus HA32 è stato testato dalla rivista Autobuild in due misure differenti e ha raggiunto un quinto e un decimo piazzamento. Mettiamo ora a confronto i dati dell'etichetta europea. Parlando di risparmio di carburante, i tre pneumatici presentano sostanzialmente gli stessi valori. Solo una misura del Kumo presenta un valore leggermente peggiore. Tutti i pneumatici vincitori presentano gli stessi valori di classificazione nell'aderenza sul bagnato, ottenendo un buon valore B. Il Kleber è il più silenzioso dei tre ed ha anche di tutti gli altri pneumatici presi in considerazione. Ma altri due prodotti si sono distinti per prestazioni molto buone e ci sentiamo di consigliarveli. Il Firestone Multiseason 2 e il Nexen MBlu for Season 2. Nei test si sono così posizionati. Il Multiseason 2 conquista un quarto, un sesto, un settimo e un tredicesimo posto. L'Emblu for Season 2 raggiunge un nono e un dodicesimo posto. L'etichetta europea del pneumatico rivela una buona aderenza sul bagnato per entrambi e prestazioni di risparmio di carburante migliori per la gomma di Nexen. Vorremmo infine citare altri due validi prodotti che ci sentiamo di raccomandarvi. Il Vredestein Quattrack e il Dallop Sport All Season. Di quest'ultimo trovate anche il nostro test approfondito nel link qui in alto a destra. Il punto forte dei pneumatici che abbiamo analizzato oggi è proprio il prezzo conveniente. Parlando di cifre concrete, quanto costano questi pneumatici? Prendendo sempre a campione le misure più acquistate sul mercato, l'Huncook, il Kleber e il Firestone si posizionano un gradino sopra gli altri pneumatici, ma mantengono comunque un prezzo conveniente. La gomma di Nexen si trova poco più in basso, ma è cumo a poter vantare il prezzo nettamente più competitivo del gruppo. Ricorda che qui sotto in descrizione puoi trovare i prezzi di tutti questi pneumatici. Ti baserà cliccare sul relativo link e impostare le tue misure. Quali pneumatici ci suggerisci di testare? Sei interessato ad altre comparazioni tra diversi prodotti? Fammelo sapere nei commenti qui sotto e se il video ti è piaciuto ricorda di lasciarci un bel like. Un saluto da Nicole e al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!